Tu forse non ci crederai, ma siamo circondati dalla magia. A volte può essere difficile trovarla. Hai portato la tua spazzatura a scuola. Ma a volte è la magia a trovare noi. No, guardati. Sue Casey è così carino. È così rosso. Quanto diventerà grande? Beh, dipende, non credi? Da cosa? Da quanto amore gli darai. Vorrei che tu fossi grande e forte. Così il mondo non potrà più ferirci. Clayford! Sue Casey! Siamo in ritardo per la scuola. Riguardo al cane! Clifford, fai il drago e lassalo! Salute! Non dovremmo provare a nasconderlo. È New York, non lo loterà nessuno. Lui è... Lui è un gran... Mettiti sulla bilancia, bello. Scriverò solo pesante. E se qualcuno ti facesse sentire in grado di fare tutto? Clifford, no! Non prenderla! Oh no! Clifford! È un uomo, guccia! Questo cane mi sta sfinendo. Guarda, stanno giocando! Non si vede mica tutti i giorni. È ora di dargli da mangiare.